Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Ivan Arella dell'associazione La Piazza di Cleto e dopo l'esperienza positiva di Cinecunti proprio qui a Cleto, quest'anno invece abbiamo FotoCunti quindi chiediamo proprio a Ivan Arella come sarà questa nuova edizione riveduta e aggiornata e qual è il tema di questa bellissima valorizzazione nuova e sempre crescente del Borgo di Cleto. Sì, allora, quest'anno abbiamo riproposto il progetto della Residenza Artistica che è stato un progetto che lo scorso anno ha avuto ampio successo, lo scorso anno dal titolo Cinecunti che si sviluppava sul cinema, quindi abbiamo ospitato quattro fotografi provenienti da un po' tutte le parti d'Europa che per dieci giorni hanno abitato, sono diventati diciamo cittadini cletesi per dieci giorni e sono riusciti a realizzare dei video molto molto interessanti. Quest'anno in collaborazione con Fototopia a Albidona abbiamo voluto riproporre questo progetto che lo scorso anno era andato in collaborazione con l'Aguarimba, quest'anno abbiamo sviluppato invece con ragazzi di Fototopia, Fotocunti, dove invece di ospitare i registi che svilupperanno e racconteranno Cleto tramite dei video, lo racconteranno tramite la fotografia. Fotografia come mezzo, come strumento per raccontare un luogo non solamente visivo ma anche la parte umana, infatti sarà una piccola impresa riuscire a far raccontare Cleto e i suoi cittadini, sulla sua storia e tutto quello che gira intorno a questo bellissimo territorio tramite una storia fotografica che saranno 5 opere, per ogni artista e gli artisti fotografi saranno 5, presenteranno 5 opere, 5 storie che alla fine andranno ad allestire una mostra unica dal titolo Fotocunti che verrà esposta all'ottava edizione del Cleto Festival di quest'anno. Il tutto basandosi su un tema che solamente oggi i ragazzi hanno scoperto che è il risvegli che in realtà è lo stesso tema dell'edizione del Cleto Festival di quest'anno che ancora non avevamo svelato, in questa occasione abbiamo svelato sia il tema della Residenza Artistica ma anche del Cleto Festival di questa ottava edizione. Ivan, un'altra informazione molto importante, ovvero che il vostro lavoro, il vostro impegno avviene senza finanziamenti esterni e soprattutto con le vostre forze e magari con le collaborazioni di altre associazioni che si uniscono come una rete e valorizzano quello che invece si potrebbe disperdere e si disperde in altri contesti. Sì, purtroppo diciamo molte volte la mancanza di finanziamenti anche per i fondi pubblici diventa una scusa sul fatto di che se non si ha il finanziamento non si può realizzare. Noi questa situazione qui tramite il nostro operato che ormai da anni operiamo dal Cleto Festival ma dalle altre iniziative che facciamo durante il corso dell'anno siamo riusciti un po' a sfatarlo. Il tutto tramite, come accennavi, sul fatto che alla base c'è una cooperazione e collaborazione da parte di varie realtà che sono da privati, da aziende del territorio, da associazioni locali ma anche dalle persone che fanno parte delle associazioni che si operano e si mettono in primis a contribuire col loro operato alla realizzazione di vari progetti. Saranno tre giorni quindi ai quali possiamo invitare non soltanto le persone vicine a Cleto, quindi provincia di Cosenza, Catanzaro, Amantea, ma chiunque volesse seguirvi e iscrivervi per partecipare magari attivamente alle future attività che farete da oggi e nei prossimi mesi fino ad arrivare al Cleto Festival. Infatti la residenza artistica di quest'anno di Fotocunti è stato un progetto pilota perché anche la scelta dei fotografi è stata un po' selezionata a causa del poco tempo a disposizione dell'organizzazione e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo coinvolto le associazioni fotografiche della regione, della provincia di Cosenza, di Catanzaro, però è normale che l'invito a partecipare a questa residenza è aperto a tutti, infatti abbiamo organizzato nei programmi di questi tre giorni dei momenti di socialità, di socializzazione tra la gente del posto ma anche a chiunque voglia conoscere il progetto, conoscere i fotografi e partecipare così da prendere anche, cioè ritornare un po' ad avere quel contatto umano ed entrare un po' in empatia con le persone che molte volte questa cosa mi è dato un po' persa.